Lezione 3 Problemi a lungo termine dovuti all'alcolismo cronico L'alcolismo cronico, il consumo eccessivo e abituale di alcol, provoca molti problemi di salute. Tre sono discussi qui, il danno causato al fegato del bevitore e al sistema nervoso e l'effetto del consumo di alcol durante la gravidanza sul feto. Altri problemi di salute includono malattie cardiovascolari e cancro. 3.1 Malattia epatica alcolica La storia di Rakel illustra l'inizio del danno al fegato, vignetta 1. Vignetta 1. I problemi di salute di Rakel ha a causa del suo bere. Rakel ha bevuto molto durante il suo tempo come manager in una compagnia di viaggi. Per molti anni è stata in grado di far fronte alle pesanti esigenze del suo lavoro senza apparentemente sviluppare effetti dannosi. In effetti sembrava che l'alcol avesse un effetto positivo sulle sue prospettive di lavoro. Gli altri manager godevano della sua compagnia al pub dopo una giornata di tensione in ufficio e lei godeva di una certa reputazione come donna che sapeva bere tanto quanto gli uomini. Quando Rakel aveva 45 anni, la sua azienda le chiese di trasferirsi nella loro nuova sede a Milton Keynes. Come parte della sua richiesta di assicurazione per coprire il suo nuovo muto, Rakel è andata dal suo medico per un controllo medico. Durante le domande di routine Rakel ha rivelato di avere spesso disturbi addominali, occasionalmente nausea e diarrea frequenti. Durante la visita medica Rakel ha rivelato che beveva l'equivalente di 4 unità di alcol al giorno, di solito di più nei fine settimana, in effetti era molto di più. Il suo medico ha calcolato che questo rappresentava circa 32 unità ogni settimana, di gran lunga superiore al massimo raccomandato dal governo britannico di 14 unità a settimana per uomini e donne. All'esame il suo fegato era leggermente ingrossato, ma non aveva altri segni esterni di malattia ipatica. Il medico ha prelevato un campione di sangue che è stato inviato per analisi. Poiché molte persone tendono a sottovalutare il proprio consumo di alcol quando vengono interrogate, alcuni operatori sanitari utilizzano serie specifiche di domande durante lo screening per l'assunzione eccessiva di alcol. Walsh e Alexander, 2000. Una versione popolare è chiamata questionario cage. Una risposta positiva a due o più di queste domande suggerisce un consumo eccessivo di alcol. Dopo una settimana Rakel è tornata dal suo medico per i risultati delle analisi del sangue. Il medico l'ha informata che nel suo campione di sangue erano stati rilevati due dei segni più comuni di danno epatico legati al consumo eccessivo di alcol. Fare una diagnosi La malattia del fegato di Rakel è stata rilevata quasi per caso in una fase abbastanza precoce. Il medico è stato in grado di fare una diagnosi di malfunzionamento del fegato dalla sua storia medica e dai sintomi discussi e dall'esame che ha mostrato un fegato ingrossato. Gli esami del sangue hanno confermato che il fegato di Rakel non funzionava molto bene, ma questo non è sufficiente per stabilire una diagnosi definitiva. Una diagnosi accurata può essere fatta solo con tecniche che differenziano tra i diversi motivi per cui il suo fegato potrebbe funzionare in modo meno che ottimale. Una biopsia epatica è stato utilizzato per accertarsi che il disturbo del fegato di Rakel fosse correlato al suo consumo di alcol. In questa fase è stato confermato che la sua diagnosi è nota come fegato grasso alcolico. Rakel era sconvolta dalla diagnosi, ma sollevata nel sentire dal suo medico che questa condizione poteva essere invertita se avesse smesso di bere alcolici. Ha deciso di interrompere, o almeno limitare gravemente, l'assunzione di alcol. Figura 3 esecuzione di una biopsia epatica. A. Indica la posizione del fegato e la posizione attraverso la quale viene solitamente inserito l'ago per biopsia. B. Viene rimosso un piccolo nucleo sottile di tessuto. Durante una biopsia epatica un piccolo agocavo viene inserito attraverso la pelle e nel fegato, figura 3. Viene estratto un campione di tessuto epatico che può essere esaminato con un microscopio. Le biopsie possono essere utilizzate per diagnosticare una condizione e anche per monitorare i suoi progressi negli anni futuri. Forse il più noto effetto collaterale e dannoso a lungo termine del consumo di alcol in eccesso è il danno al fegato. La malattia epatica alcolica è classificata in tre fasi progressi, fegato grasso, epatite e cirrosi. Il fegato grasso è una conseguenza precoce e reversibile del consumo eccessivo di alcol durante il quale il grasso si accumula nelle cellule del fegato, figura 4. I meccanismi attraverso i quali ciò si verifica sono complessi e ancora in fase di studio, ma includono il rilascio di grassi dal tessuto adiposo, cellule in cui il grasso è normalmente immagazzinato, la ridotta scomposizione dei grassi nel fegato e in caso di alcolismo cronico altre carenze nutrizionali giocano un ruolo. Figura 4. A livello microscopico è possibile rilevare la presenza di grasso in fette sottili di tessuto epatico utilizzando un colorante rosso. A. Le cellule in un campione di fegato normale contengono poco grasso rispetto a. B. Le cellule in un campione di fegato grasso. Ingrandimento per cento. Foto. Hillary McQueen. Risposta. Perché potrebbero esserci carenze nutrizionali nell'alcolismo cronico? Il fegato grasso di per sé non causa danni a lungo termine al fegato e viene invertito astenendosi dal bere alcolici. Tuttavia, può essere un'importante indicazione precoce che si sta facendo un danno e che il consumo eccessivo e continuato di alcol potrebbe portare a condizioni più gravi di epatite e cirrosi. Figura 5. Figura 5. A. Confronto tra campioni di fegato di tre persone che mostrano fegato normale, fegato grasso e cirrosi. Foto. Arthur Glauberman barra Science Photo Library. Epatite significa infiammazione del fegato e può variare da lieve, rilevabile solo tramite esami del sangue, a grave, causando malattia, ittero, ingiallimento della pelle e dolore. L'epatite molto grave può portare a insufficienza epatica che spesso è fatale. Cirrosi è un cambiamento graduale e irreversibile in circa il 10% dei forti bevitori cronici in cui le cellule del fegato vengono sostituite da tessuto cicatriziale. Ciò non solo riduce la capacità del fegato di svolgere le sue numerose funzioni biologiche essenziali, ma interrompe anche il flusso sanguigno attraverso il tessuto epatico, causando gravi complicazioni come danni alla milza, un organo coinvolto nel mantenimento del sangue, e al sangue vasi dell'intestino, quando la pressione sanguigna aumenta nella vena porta. Poiché il fegato è vitale per un'ampia gamma di funzioni, inclusi i processi digestivi, la regolazione dei livelli di glucosio nel sangue, l'immagazzinamento di vitamine e la scomposizione di sostanze nocive. L'interruzione causata dalla cirrosi colpisce molti sistemi del corpo. La morte per cirrosi epatica tende ad essere dovuta a insufficienza epatica o sanguinamento catastrofico improvviso dai vasi sanguigni interrotti dell'intestino. Si comprende relativamente poco sui cambiamenti precisi che si verificano all'interno delle singole cellule del fegato che portano a danni, infiammazioni e cirrosi. L'osservazione è che relativamente pochi individui che bevono eccessivamente soffrono di gravi danni al fegato, epatite e cirrosi sono rari, mentre la maggior parte dei forti bevitori avrà fegato grasso, suggerisce che altri fattori, come l'obesità e il trucco genetico, possono essere importanti oltre all'alcol. Reuben, 2006. Inoltre, i deficit di vitamine e altri nutrienti essenziali possono portare all'interruzione delle reazioni chimiche nel corpo che mantengono i tessuti sani e riparano i danni, quindi è possibile che la mannutrizione possa contribuire alla causa o alla progressione della malattia epatica alcolica. Sono stati proposti diversi potenziali meccanismi che tentano di spiegare come la presenza di etanolo, o dei suoi metaboliti, possa causare danni alle cellule epatiche. Tuttavia, la ricerca in quest'area è difficile a causa dell'enorme numero di reazioni chimiche interconnesse che si verificano simultaneamente all'interno delle cellule. Comprendere i processi molecolari all'interno delle cellule del fegato che portano alla malattia epatica alcolica in alcuni individui e non in altri potrebbe consentire lo sviluppo di terapie per ridurre o forse anche invertire gli effetti dannosi del consumo di alcol. Attualmente alcune malattie epatiche alcoliche possono essere risolte con l'astinenza, ma la cirrosi è irreversibile e il trattamento si concentra sul rallentamento della progressione e sulla riduzione delle complicanze.